Dunque, siamo in compagnia della responsabile del progetto Giovanni Sì della Regione Toscana. Chiara, puoi spiegarci in cosa consiste questo progetto? Allora, Giovanni Sì è un progetto venuto dal Presidente della Regione Toscana di Corossi, che ha preso l'inizio della sua legislatura, ha voluto costruire un progetto integrato che mette insieme più politiche rivolte ai genitori, che la Toscana un tacco già costruiva e infatti ha costruito il finale per la nascita di nuovo progetto, e ha voluto metterli insieme in maniera trasversale sotto il mio progetto appello, che si chiama Pinto Giovanni Sì. Per cui noi siamo un portale, quindi diamo informazioni sui Giovanni Sì, siamo un ufficio che coagula gli assessorati e che costruiscono le misure di molti giovani, siamo un gruppo di persone che entra nell'azione con i giovani toscani, non solo con i giovani toscani, con tutti quei giovani che possono, per 10 anni, delle opportunità dei giovani sì e il nostro compito è quello di aiutare chi entra nell'azione con queste opportunità a costruirci la misura sui giovani. Allora, una particolarità di questo progetto è che nasce in qualche modo da una consultazione con i giovani del territorio. Sì, infatti è anche così. Diciamo che prima di Giovanni Sì in Toscana esisteva un progetto che si chiamava Filigrane, che era un progetto di politiche giovanili che lavorava sulla partecipazione e all'interno di questo, l'ultimo anno, diciamo, dell'attività di questo progetto venne chiesto ad alcuni ragazzi, alcuni giovani che avevano collaborato, avevano esifruito delle opportunità di Filigrane, di fermarsi un attimo con noi a riflettere su cosa si aspettavano e cosa avrebbero voluto che una regione facesse per aiutarli a diventare fammi. Questo si è trasformato in un documento. Sicuramente questo documento è stato una parte della riflessione che poi ha portato alla nostra regione di Sì. Ok, quindi a che punto siete oggi e dove state per andare? Quali sono le prospettive future? Allora, oggi siamo a un buon punto perché questo progetto riscuote molto successo soprattutto in termini di eccesso. Sono molti giovani che riescono a beneficiare delle nostre misure. e quindi sicuramente quando questo era l'obiettivo da raggiungere lo abbiamo raggiunto. Dove vogliamo andare? Vogliamo andare molto lontano. Non ci accontentiamo. Abbiamo eseguito all'interno della progettualità una serie di luoghi fisici, infatti, di persone che ci permettono di confrontarci quotidianamente per capire se le misure che stiamo applicando sono realmente efficaci o se possono essere migliorate. e questo ci dà l'infa vitale tutti i giorni per continuare a migliorarci. Non solo, ma grazie a questi luoghi che sono un tavolo giovane, un tavolo delle stanze giovani, una cabina di logia dentro la quale si trovano tutte le stesse solate più d'oltre, cerchiamo di capire se si possono costruire nuove misure che vanno a rispondere a misure nuovi che magari emergono dal nostro rapporto diretto con i giorni che incontriamo e che beneficiano le 18 milioni di messa. Grazie, buon lavoro. Grazie.